Ah sì, sì, certo. Io ho preso il miele l'altra volta, quello di arancio, una cosa del genere. No, no, ancora. Questo per il miele è il miele. Ci sono solo per ora, è gioco uno, è gioco uno, è gioco uno. E' gioco uno, è gioco uno. E' qualcosa di semplice semplice per cucinare, per fare il pollo, perché dà un gusto sulle cipolle. No, sono limoni, ma c'era. Questo è un po' di città. Questo è tipo batteria. No, non. C'è parte del cibo con la credenza? leading ma non fosse un po' ma non è vero ma non è vero perché non è vero ma non è vero si vi chiede lo posso non lo si non è vero ma non è vero le carte non è vero questo Sì, è di progettare. È di progettare. Sì, sì. No, per portare. Scusate, ti porto un chilo di pasta, se lo vuoi perdere a casa. Grazie.